Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Aspetta, aspetta, aspetta. Il destino a volte è crudele e non sai mai ciò che ti succederà. Ma adesso gioiamo tutti insieme perché stanotte c'è stata la perquisa del marescià. Marescialli, buonasera. Dai che questi momenti mi mancheranno. Clippate, clippate questo momento. No, non ti prendi, pistole la vendi. Sono il mio e la ferma, senza il tempo per lui. Arrivo, rimaniamo a stare. Porco Dio, porco Dio. No, filati, non vuoi sentire. Sono proprio le scarpe. Dai, sentiamo. Non puoi sentire, filati. Puzzano, insomma. Ci sta. Tre cazzini nella settimana, te ne potrei portare almeno. Ci stanno massacrando gli insulti. Ci stanno massacrando. L'elastico del Don. È un elastico? Clown. Non ha un elastico, ragazzi. Ma l'hai tolto, ma sei un cretino. Non ha un elastico. Comunque, vuol dire, nessuno ha impedito le riprese. Cioè. Dagli un bacio dolce sulla bocca e basta. Provaci. Tutti in retta, provaci. Provaci. Come cazzo hai fatto? Come sia? Porco Dio, me ne vado, è finito. Ma se è un cazzo di noi? Ma perché vi devo insegnare le cose in questa cazzo di noi? Ma che cazzo di noi? Ma che cazzo di noi? Ah, cazzo. Sono tutti qua, cosa dicevo? Come ho detto? Quello che ti piace, anche dello staff. Grazie Anita. Grazie a te. Ciao. Ciao. No, ho sbagliato. Quanto c'è te la mettete? Giorgia Yin. Valentina Cresci. Ora mi sento io. Agatha. Chiara Ferragni. Stappa, stappa. Fai il serio. Perché parla con la voce pelata? Marzone. Che fine di merda. Ma com'è la voce? Ma è una merda. Ale, 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 Ale. Ale. Ale, Ale, Ale. Ale, Ale, Ale. Ale, attiva. No, no. No, no. No. No, no, no. No, no. No, no. Ho finito la porta. Ho finito la porta. Preparati il studio. Allora, vittà. 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 Grazie per i beat, cazzo. Stamattina brilli un suol mio, resta qui con me e consolami. Ho già messo la tua voce come suoneria, quella che mi hai fatto è una stregoveria. Grazie per i beat, cazzo. Ormai ci siamo noi per voi, nessuno saprà nulla tranquilli. Le coppie vere come voi rimangono, i divertimenti di una notte andranno via. Se tu e Vasquez foste le ultime due persone sul pianeta Terra, ti riprodurresti con lui per salvare l'umanità? Per forza. No. No! No, adesso fai fatti, va al di là, c'è un casino. Bravo, fai un casino. Fai un casino, Gabri. Fai un casino, Gabri. Fai un casino, Gabri! Ma Nicole, poverina, non ha mai pulito la mattina perché la mattina lei non andava a dormire. Ti piace il don, sì o no? È un ragazzo. Ok, e lui con lo staff di cui parlavi? Sì. Ok, grazie Anita. Ma che palle. No, non te la stringo la mano. Dai. Ciao. No, no, scherzo, 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 Gabri torna. Let's go! Girati, guarda Nicole, ma chi è stata topa che passa? Ma chi è stata topa che passa? Mi ha scudato in faccia. Scusa, la topa... No, no, no! Scusa 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 Tipo è Vastas Tipo questo è uno spam E comunque se vuoi Tu puoi seguirmi su Youtube Mi chiamo Alessio Vasquez Alessio V A S Q E Z Già da domani uscirà un bel video su Youtube E sono sicuro che Sarà veramente pazzesco perché Uscirò e sarà un video su Youtube Con questo taglio qua proprio Con questo taglio Quindi ovviamente non puoi perdertelo Mi chiamo Alessio Vasquez Se ti va di seguirmi anche su Instagram Alessio Vasquez Su TikTok Alessio Vasquez E se vuoi veramente qua c'è una bella tazza E questo è il podcast Vastas Il nuovo podcast Ok No Swiccia Ma no Ma cosa fa Ma no Ma cosa fa Ma no 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 chiamatemelo Chiamatemelo Chiamatemi Fabrizio in regia No ragazzi ma è una scena raccapricciante Chiamatemi Fabrizio in regia È scioccato Fabrizio in regia Non c'è Fabrizio però non c'è No